Allora, di nuovo benvenuti a tutti, grazie per essere con noi questa sera nonostante Sanremo, siamo il Pug Romagna, un ex Pug itinerante per il territorio romagnolo, ormai convertito online da un anno, ci incontriamo la prima settimana del mese solitamente il martedì, ci trovate su Meetup come Pug Romagna e da lì potete vedere tutti i nostri eventi, ricevete le nostre mail con gli aggiornamenti, i video delle nostre vecchie serate, il materiale che condividiamo durante i Meetup e soprattutto sconti e promozioni che ci dà il GRUSP e Code Emotion che sono i nostri partner. Non mandiamo spam, non mandiamo mail strane, quindi vi consiglio di scrivere e abilitare le comunicazioni per ricevere questi omaggi che riusciamo ad avere per voi. Per selezionare i nostri argomenti delle nostre serate utilizziamo GitHub dove potete vedere tutto l'elenco delle proposte fatte, votare quelle che vi piacciono di più oppure proporvi come speaker o suggerire nuovi argomenti sui quali noi organizzatori ci possiamo poi muovere per organizzarci e cercare di farvi seguire le serate più interessanti per voi. Questa sera con noi c'è Alessandro Minocri che è uno dei coordinatori del Pug e questa sera anche speaker che parla di sinfone architetture esagonali e il talk come sapete è registrato e potete fare le domande su Slido poi a fine a fine serata e le discutiamo insieme facciamo un pochino di networking. Lascio la parola e la condivisione monitor ad Alessandro e vi ringrazio. Ciao a tutti intanto vi ringrazio di essere qui che è sempre per me un onore parlare qui comunque nonostante sono di casa spesso e cosa di cosa parliamo oggi come ha detto Nicole parliamo di symphony e dell'architettura esagonale. Mi presento intanto se qualcuno non mi conoscesse lavoro in flowing e principalmente lavoro in PHP e Node.js mi potete trovare anche in molti progetti open source su GitHub su comunque su Stack Overflow anche dove mi piace anche rispondere e condividere esperienze e su Twitter mi trovate con questo Nick se volete seguirmi ogni tanto ho posto anche qualche articolo anche di recente e come ho detto oggi come abbiamo detto prima oggi parliamo di symphony e architettura esagonale perché perché secondo me è una di quelle tematiche che sta venendo fuori veramente tanto spesso nei miei lavori o comunque in flowing ne parliamo spesso e spesso veniamo chiamati per problemi noti che vengono ricondotti all'architettura esagonale come disaccoppiare il codice. le mie aspettative di oggi sono quelle di condividere con voi un'esperienza quindi non prendete come orcolato quello che vi sto praticamente dicendo come fossero regole mandatorie bisogna fare così in tutti i casi no le mie sono esperienze le mie sono consigli le mie sono proprio esperienze di vita di un dev che cerco di portarvi con un po di argomentazioni anche diciamo di esperienze ma anche tramite libri o comunque persone che ne hanno già parlato e ne hanno tratto i benefici perché comunque ne parlo perché ho visto tanti tanti benefici in questo quindi da cosa partiamo partiamo da una storia reale una storia che può capitare e che spesso molti di voi potrebbero avere incontrato una nuova applicazione deve essere creata da zero quindi il team è super carico siete veramente emozionati di farlo da zero un greenfield non capita spesso almeno a me però quando capita c'è sempre quell'emozione il fatto di poter partire con un nuovo framework l'ultimo symphony l'ultimo php i nuovi servizi e quindi fare tutto quello che ci aspetta e di solito come viene creato un progetto del genere beh non fateci caso non pensate che sia sempre così ma ho visto questi casi tipo installazione del symphony skeleton project quindi si parte partendo proprio dal symphony skeleton di intamente compose rimuovendo il codice demo se c'è autogenerando le entità autogenerando controller e si è pronto a sviluppare l'applicazione ripeto non è sempre così ma spesso ho visto questo pattern perché si pensa che sia molto più veloce partire in questo modo si pensa che si risparmia tempo e quindi si parte in questa maniera con i pro e i contro spesso però non li conosciamo e trovate un servizio perfetto per il vostro per il vostro applicativo facciamo un esempio che dovete fare un sistema dove dovete pagare con carte di credito comunque c'è un sistema di pagamento e trovate un payment gateway perfetto questo direte proprio questo è quello che mi serviva per la mia applicazione perché senza questo questo è il migliore di tutti consigliato a tutti va bene e quindi lo installate e cosa succede sei mesi dopo sei mesi dopo il servizio è deprecato oppure ne trovate uno migliore uno che costa meno uno che è mantenuto uno che ha la libreria php aggiornata uno che rilascia una feature che per voi è essenziale quindi ci sono tante motivazioni che possono portarvi a cambiare un servizio quindi una dipendenza rispetto a un'altra succede e quindi iniziate a guardare in tutti i punti del codice dove dovete modificare per postare questa questa dipendenza da un servizio a un altro cercate 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 e trovate 42 differenti posti diversi nella code base e 42 come molti di voi sanno non è un numero casuale ad esempio proviamo a capire un attimo che casi abbiamo reali tipo in un pen nel controller abbiamo questo servizio your bank gateway che viene richiamato tra col metodo pay con questi parametri prendiamo da request l'amount mettiamo di valori false false zero e euro che è molto ovviamente euro in un altro punto del codice in questo caso potrebbe essere un modello potrebbe essere un value object non penso però abbiamo questo metodo pay dove accettiamo una request e al suo interno rinistanziamo your bank gateway e chiamiamo il metodo pay in questo nello stesso modo poi abbiamo nello user di nuovo un metodo pay con l'instanziamento di your bank gateway di nuovo chiamando il metodo pay con un'altra firma quindi solamente prendendo dalla request in questo modello fidatevi capita veramente spesso questa situazione non è un caso estremo sono anche di peggio quindi diciamo che ho cercato di compattare alcune diverse cose particolari poi mi dite ma mi sembra codice lecito sia codice lecito però ha dei side effect e come mai esiste questa situazione come mai stanziamo in tanti modi diversi un servizio con una firma diversa non usando magari dei pattern non usando magari in maniera corretta questo servizio ma la mia opinione è che spesso noi dev ragioniamo molto sulle soluzioni ragioniamo molto su quello che dobbiamo fare arriviamo al gol in un certo modo nel miglior nel minor tempo possibile per riuscire a mantenere quei tempi di business che ci richiedono spesso e quindi tralasciamo alcuni concetti essenziali e concetti essenziali che poi peggiorano il nostro applicativo a lungo andare quindi stiamo ragionando più in termini di tempo e stiamo ragionando più in termini di facciamoci guidare dal framework perché il framework è nostro amico vero però vediamo perché ci sono dei problemi nell'essere guidati dal framework l'impossibilità di aggiornare il framework ai vendors perché perché avendo del codice accoppiato se noi abbiamo il framework ai vendors le librerie molto copiate con il nostro codice fare un upgrade ad esempio da symphony 3 a symphony 4 poi a symphony 5 potrebbe essere dispendioso perché dovete andare a toccare le parti di dominio quelle parti magari di pagamenti che non vorreste toccare voi state aggiornando il framework non è che dovete toccare altre cose e quindi è impossibile cioè siete molto preoccupati nel farlo e ci vuole tempo quindi costi di manutenzione perché comunque noi abbiamo un software spesso che non è che devono essere usati per dieci giorni devono essere usati per anni quindi dobbiamo mantenerli spesso quindi vuol dire far aggiornamenti di symphony far aggiornamenti di librerie aggiornamenti php eccetera e che sono costosi se il codice tutto accoppiato se ci siamo fatti guidare dal framework perché tutto è intrecciato poi gli sviluppatori non sono motivati per i problemi di vecchio stack citati nel punto 1 quindi se rimanete in symphony 1 per sempre i programmatori non è che sono molto contenti di restarci mi è capitato molto spesso anche zend 1 non sono molto contenti di rimanere lì perché vogliono provare cose nuove almeno vedere qualcosa in più e se non si riesce ad aggiornare il tutto dopo un po la motivazione perde e trovare persone che possono lavorare con vostro stack è difficile ripeto applicazione non mantenibile perché c'è un forte accoppiamento come abbiamo detto prima molto debito tecnico il debito tecnico è una di quelle cose che vi deve veramente spaventare ed è una di quelle cose che cosa succede quando riconosciamo che c'è debito tecnico spesso io vedo card nelle kanban a dobbiamo fare questo perché c'è debito tecnico a dobbiamo fare quest'altro perché c'è debito tecnico e sono card che rimarranno lì una vita forse per sempre a un certo punto l'archivia tutto in botto no secondo me quando riconoscete che c'è del debito tecnico cercate di farlo di sistemarlo subito se non riuscite in quel branch lì perché magari un altro focus appena lo chiudete date priorità al debito tecnico perché più debito tecnico accumulate più le applicazioni diventano accoppiate e più sono difficili da mantenere e difficili da evolvere ecco perché poi diventa impossibile cambiare le implementazioni facilmente se dobbiamo cambiare una dipendenza un payment gateway da un servizio a un altro non dico che deve essere immediato ma non deve essere neanche impossibile non dobbiamo farci tenere in gabbia da librerie da framework loro devono essere dei tool ripeto io adoro symphony tantissime librerie però dobbiamo usarle come un tool non come qualcosa che ci guidi in quello che facciamo tutti i giorni quindi cosa è per me realmente importante nel software per me è realmente la cosa veramente più importante è la soluzione al problema che noi mettiamo nel nostro dominio perché il nostro applicativo deve risolvere un problema in qualche modo quindi quella parte di risoluzione a parte del nostro dominio il nostro dominio la cosa importante non tanto il framework o le librerie che usiamo quelle sono dei tool la parte importante è il dominio e bisogna proteggerlo in qualche modo bisogna essere in grado di metterci mano in maniera semplice e in maniera tranquilla quindi ciò che apporta davvero valore nel software soluziona il problema specifico nel dominio questo è una cosa che cerco di portare spesso in tutti i miei applicativi comunque di esternare in team in altri dev perché concentrarsi solamente sulla soluzione in maniera diretta utilizzando il minor tempo possibile spesso ci porta a soluzioni sbagliate a lungo andare quindi proviamo a capire l'architettura esagonale come ci può aiutare in questo come ci può essere d'aiuto e capiamo un pochino quando è nata è nata nel 2005 ed è stata inventata e pubblicata da Alistair Cockburn praticamente è un modello architetturale che mira a creare un disaccoppiamento tra i vari componenti che cercano, che devono essere legati poi tramite porte e adapter ciò rende i componenti interscambiabili a qualsiasi livello e facilita molto l'automazione dei test quindi l'architettura esagonale divide un sistema in diverse componenti intercambiabili non accoppiati come il core, database, interfaccia, test, interfaccia con altri sistemi cosa vuol dire in sostanza? che noi dobbiamo cercare di dividere in primis il framework dal dominio cerchiamo proprio di tenerli separati, sono due cose diverse si devono parlare sì in un certo modo cerchiamo di tenere il dominio ben chiuso comunque che non deve dipendere da libreria esterna non deve dipendere da fattori esterni la soluzione è lì dentro e deve essere ben protetta tranquilla e dobbiamo metterci le mani in maniera safe e quando esternalizzo spesso questi miei concetti questi miei concetti comunque queste definizioni mi chiedono ma è una sovra-ingegnerizzazione? staccare domini, infrastruttura cercando di non parlarsi? sì, si devono parlare ma ripeto in un certo modo secondo me non è una sovra-ingegnerizzazione è un modo diverso di creare applicativi è un modo diverso di pensare spesso è un modo che ti porta a pensare di più è un modo che non ti porta a scrivere subito il codice ma a pensare al comportamento di dominio a quello che veramente dobbiamo esprimere a quello che veramente dobbiamo risolvere prima di scrivere codice che non vuol dire fare analisi di giorni e giorni no, vuol dire solamente cercare di separare i due concetti e cercare di focalizzarsi sulla soluzione non su devo usarlo e faremo che questa libreria per risolvere il problema perché? perché creiamo un codice accoppiato e questo è un esempio di codice accoppiato secondo me abbiamo un servizio chiamato payment con un metodo to payment che accetta una request dentro questo metodo abbiamo il nostro servizio di urban gateway che viene istanziato con la new e chiamiamo il metodo pay con i parametri da richiesta e questi altri parametri perché questo codice accoppiato? le prime volte che mi dicevano devi creare il codice accoppiato io non capivo molto cosa significasse anni e anni fa poi pian piano con l'esperienza leggendo libri e confrontarmi con altre persone ho capito veramente cosa significasse provo un pochino a spiegarlo con queste pochissime righe in questo caso questo metodo do payment accetta un oggetto request questo vuol dire che questo metodo lo possiamo chiamare solamente da un web controller cioè una chiamata web http perché l'oggetto request deriva da http foundation ok? quindi se dobbiamo usare questo metodo tramite un command line interface NACLE non funziona dobbiamo duplicare il codice dobbiamo fare altre cose quindi no non è utilizzabile alla fine da altri metodi quindi stiamo accoppiando con la request un'altra cosa importante è che noi stiamo istanziando con la new il nostro servizio quindi vuol dire che se dovessimo cambiarlo dobbiamo cambiare in tutto il codice dove lo istanziamo in quella maniera e soprattutto perché poi richiamiamo subito sotto il metodo pay usando anche qui la request quindi stiamo accoppiando la request con il nostro servizio con il servizio di pagamento come possiamo disaccoppiare questo codice? ora questo è un esempio che vi porto ci sono altri modi per risolverlo però potrebbe essere che noi creiamo un'interfaccia gateway provider con un metodo pay che accetta un oggetto money l'oggetto money è diverso dall'oggetto request perché stiamo dicendo devi usare un oggetto slegato dalla richiesta slegato da un command line interface da altre cose usiamo degli oggetti usate gli oggetti ragazzi poi abbiamo il nostro servizio your bank gateway che implementa la nostra interfaccia e ha il metodo pay logicamente che accetta l'oggetto money questo nostro servizio che è quello di pagamento viene poi iniettato viene iniettata l'interfaccia attenzione non viene iniettato il servizio direttamente viene iniettata l'interfaccia e poi nel metodo do payment usiamo il gateway provider che è quello che gli iniettiamo la dependency injection è uno di quei pattern che vi aiuta veramente a disaccoppiare tanto ma tanto tanto e in questo modo noi non stiamo dicendo a nessuno che tipo di servizio stiamo usando in questa classe stiamo dicendo che noi iniettiamo una classe con questa interfaccia quindi noi siamo sicuri che questo metodo pay con questa firma esista e stiamo dicendo che lo può usare chiunque può avere questa interfaccia in sostanza ecco come abbiamo disaccoppiato il nostro codice servizio di urban gateway la request l'abbiamo tolta non esiste più la request perché noi dobbiamo creare un oggetto money da passare qui quindi riusciamo a essere molto slegati perché è così importante disaccoppiare il codice perché ci aiuta a disaccoppiare il codice a creare un codice migliore a essere più veloci un codice mantenibile e tantissimi pro che a lungo andare si vedono perché noi come ripeto creiamo applicazioni che devono esistere negli anni che devono resistere devono essere mantenute devono essere semplici da essere modificate devono essere semplici da evolvere e per applicazione mantenibile intendo che tipo le modifiche in una parte applicazione dovrebbero essere il minore numero possibile da fare in altri punti in sostanza quindi se noi dobbiamo modificare una piccola parte se noi dobbiamo modificare una parte non dobbiamo modificare in tutta la codebase qualcosa noi stiamo modificando una piccola parte di applicazione perché dobbiamo toccare tutto il resto l'aggiunta di una funzionalità non dovrebbe richiedere di toccare nessuna parte del base di codice perché se noi stiamo aggiungendo qualcosa non è che dobbiamo modificare altro quindi questo vuol dire che l'applicazione può essere può evolvere senza dover modificare altre cose l'aggiunta di nuovi modi per interagire con l'applicazione dovrebbe richiedere il minore numero di modifiche possibili se dobbiamo aggiungere un nuovo modo tipo piuttosto che chiamare un servizio tramite una web request tramite una common line interface non dovrebbe richiedere non dovrebbe richiedere tante modifiche farlo il debug dovrebbe richiedere il minore numero di workaround quando iniziate a debuggare mettere tanti tanti workaround vuol dire che l'applicazione non è mantenibile cioè intendo dobbiamo mettere un if dobbiamo mettere un control mettiamo un debug mettiamo un log eccetera vuol dire che qualcosa non sta girando correttamente e i test dovrebbero essere relativamente facili qui è un punto per me essenziale io scrivo di solito prima il test però se capita di scrivere dopo il test mi è capitato ad esempio un giorno un team che mi ha detto guarda stiamo facendo questo unit test e sono tre giorni che ci siamo dietro tre giorni per fare un test unitario su una classe per me sono troppi e significa proprio che quella classe o non è testabile o ha troppe responsabilità troppe dipendenze non funziona cioè no fermiamoci perché quella classe non è testabile bisogna spacchettarla e qui interviene il discorso e la single responsibility che funziona sia per le classi logicamente una classe dovrebbe avere una responsabilità un metodo dovrebbe avere una responsabilità ma la single responsibility è anche per l'architettura quindi ciò che cambia per lo stesso motivo dovrebbe essere raggruppato insieme cioè cioè tipo codice relativo al framework dovrebbe essere raggruppato insieme codice relativo ad uno specifico servizio dovrebbe essere racchiuso insieme in una qualcosa di parlante in una con un nome corretto codice relativo al dominio dovrebbe essere raggruppato insieme tipo nel domain questo significa single responsibility per l'architettura bisogna separare questi concetti che devono essere raggruppati quindi ci stiamo iniziando a dire che c'è un'importante distinzione tra dominio e infrastruttura per domain intendiamo tipo modelli come entità value object aggregate e interfacce per i boundary objects cioè dobbiamo fare le interfacce poi dopo ci arriviamo poi abbiamo anche l'application che si tratta tra il domain e l'infrastructure dove abbiamo i use cases o i controller anche qui sono scuole di pensiero ma non vorrei scendere in dei dettagli perché non è il focus di questo talk e ce ne sarebbe veramente tanto a dire in ambito domain application e l'infrastructure nell'infrastruttura abbiamo il framework abbiamo le implementazioni per i boundary objects i web controllers che ripeto potrebbero anche essere messi nell'application però ripeto sono scuole di pensiero e i command line interface importante distinzione quindi domain e infrastructure è la prima poi abbiamo anche l'application che potrebbe anche non esistere in alcuni casi quindi perché è così importante avere un software mantenibile abbiamo visto secondo me tanti pro e uno dei maggiori pro è proprio anche il fatto di costi perché quando iniziamo a fare software e toccare delle piccole parti ci richiedono giorni quindi soldi qualcuno prima o poi ci viene a dire ma come mai se devo aggiungere questa piccola parte e non modificare devo spendere così tanto perché se non è mantenibile purtroppo ci costa perché abbiamo fatto delle scelte sbagliate all'inizio abbiamo avuto un trade-off abbiamo cercato di andare più veloce all'inizio ma poi ci perdiamo tutto il resto quindi forse è meglio andare più piano all'inizio cercare di ragionare più in ambito di dominio comportamenti del nostro dominio cosa dobbiamo veramente risolvere e poi dopo andare a scrivere del codice anziché farci guidare dal framework farci guidare delle librerie anche qui cerchiamo di astrarci oltre che dal framework delle librerie non è obbligatorio usare sempre tutte le librerie sempre tutte le librerie in maniera diretta ad esempio Doctrine Doctrine per quanto io lo adoro spesso è meglio metterci una strazione davanti perché Doctrine a volte ti veicola a fare dei modelli entità che non hanno logica all'interno e secondo me è sbagliato perché la logica dovrebbe essere dentro i modelli poi qui c'è tutta anche qui una bella scuola di pensiero però cerchiamo di staccarci alle librerie cerchiamo di non usarle direttamente cerchiamo di avere le nostre interfacce i nostri servizi che parlano con le librerie perché se vogliamo cambiarla se vogliamo aggiornarla dobbiamo essere veloci nel farlo un'altra domanda importante che mi ha spesso fatta è perché architettura esagonale perché è un esagono è un esagono non c'è un reale motivo diciamo l'importante secondo me è capire che ogni lato è una porta che rispecchia un adapter quindi dobbiamo capire che è fatto tra un adapter in sostanza e abbiamo parlato di porte quindi cerchiamo di capire cosa sono adesso le porte perché le porte a mio avviso sono come i contratti non è non c'è una reale rappresentazione codice non abbiamo un reale codice dentro le porte sono interfacce per lo più e ci possono essere porte di input cioè dall'esterno come possono parlare con me e porte di output come noi possiamo parlare con l'esterno facciamo un esempio questa è una porta di input è un pay order handler in questo caso è un handler che per esempio serve proprio come pattern viene usato spesso come pattern in CQRS con i command eccetera oppure un output port cioè in questo caso user repository noi stiamo dicendo bene come salviamo come prendiamo dati dal nostro database esterno lo stiamo dicendo cioè questo è il modo per farlo come noi parliamo con il database fuori ma la vera implementazione e porte sono nel dominio di solito la vera implementazione viene fatta negli adapter che sono la reale implementazione delle porte e sono di solito nell'infrastructure e sono per definizione disaccoppiate dalle porte e sono proprio le implementazioni del codice che abbiamo che dobbiamo fare come ad esempio come abbiamo visto prima stiamo implementando nella nostra interfaccia user repository e qui veramente andiamo a fare il codice qui veramente andiamo a fare le query qui veramente andiamo a salvare ricercare e restituire dati rispettando quell'interfaccia un esempio molto grafico dove possiamo avere un click home e un HTTP request che chiamano i nostri input adapters che sono nel layer di infrastructure i nostri input adapters implementano un'interfaccia un input port che sta nel nostro dominio dominio e dall'altra parte abbiamo le nostre porte di output che vengono implementate dagli adapter di output che parlano poi col database quindi abbiamo ingresso e uscita e sempre il pattern è adapter port cioè cerchiamo di usare l'interfaccia e l'implementazione per quell'interfaccia questo è esempio molto schematico molto semplice di una struttura di un progetto dove abbiamo SRC il diversi context payment e cart con l'interno separazione di domain application infrastructure ora se applichiamo il principio di dependency inversion principle con l'architettura esagonale possiamo ancora di più migliorare il nostro codice da mio avviso perché dependency inversion principle è un principio che veramente è una tecnica di disaccoppiamento che consiste in un principio formulato per la prima volta da Robert C. Martin che dice che i modelli di alto livello non devono dipendere da quelli di passo livello entrambi dovrebbero dipendere da astrazioni e le astrazioni non devono dipendere dai dettagli perché sono i dettagli che dipendono dalle astrazioni in parole povere è come diciamo quando dico che dobbiamo disaccoppiare col framework noi dobbiamo cercare di metterci un layer noi dobbiamo dire questa è la nostra parte e noi non parliamo il nostro framework non parla direttamente col dominio è contrario a volte quindi le classi di infrastructure possono implementare avere classi di application usare classi di application e domain le classi di application possono utilizzare classi di domain ma non quelle di infrastructure quelli di domain non dovrebbero usare quelli di application e di infrastructure perché il domain dovrebbe essere chiuso non dovrebbe parlare con librerie esterne o framework ci sono casi particolari facciamo un esempio il domain ad esempio in un modello io non mi aspetto di vedere negli user tipo doctrine non me lo aspetto perché è una parte infrastrutturale noi stiamo doctrine ti aiuta a dire come salviamo come ricerchiamo dati un caso particolare un'eccezione che ho visto fare è però lo UID perché? perché noi possiamo dire che i nostri ID in verità a livello di dominio usano un UID quindi quello lo riteniamo parte di dominio ma sono eccezioni quello che io non vorrei vedere nei modelli comunque nelle parti di dominio sono librerie esterne quindi tutto tutto doctrine non vorrei vedere symphony cioè se vedo no use di symphony per me quello sta da un'altra parte non fa parte del nostro domain perché è di infrastructure e il domain non dovrebbe ridipendere dall'infrastructure è l'infrastructure che può dipendere da classi di application e di domain quindi dentro infrastructure possiamo chiamare classi di application o di domain direttamente nel domain non dovremmo chiamare classi di application e di infrastructure quali vantaggi ci sono nell'uso dell'architettura esagonale? ne abbiamo visti diversi io ne vedo davvero tanti e ammetto che più uso questa architettura più mi viene semplice più vedo tanti vantaggi proviamo a vederne alcuni incrementa la testabilità perché se disaccoppiamo il nostro codice unitariamente è molto molto più semplice riuscire a fare dei test unitari e ammetto che io ne faccio veramente tanti 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 prima spesso di scrivere il codice e quindi abbiamo una coverage notevole attenzione non basiamo la qualità del codice in base alla coverage perché potrebbe essere un falso positivo però ci aiuta molto in fase soprattutto di refactoring quindi molti più unit test e noi di solito ci piace fare questi unit test piuttosto che tutti i test di integrazione che sono costosi e sia in termini di tempo che anche in base in termini di costi un altro vantaggio che ci posso vedere è che puoi sostituire un'implementazione senza toccare il dominio cioè se noi dobbiamo cambiare un'implementazione deve essere una cosa semplice senza bisogno di toccare il dominio cioè dovremmo toccare solamente l'infrastructure non dovremmo toccare le parti di dominio le parti di business logic quelle che ci spaventa quelle che magari le parti di pagamenti le parti molto delicate non vogliamo toccarle noi vogliamo dire bene da questo servizio cambiamo questo e siamo a posto spesso mi vengono mi viene detto vabbè ma quante volte succederà capiterà una volta quante volte hai sostituito doctrine doctrine no però mi è capitato altri casi ad esempio dei repository spostati da da elastica mongo in questo caso è un problema di infrastruttura non devo andare a toccare il codice devo andare a cambiare cioè non devo andare a toccare la parte di business devo andare a toccare come vengono fatte le query perché cambia il motore sotto però io sto solamente toccando la parte di infrastruttura è vero devo modificare delle cose però solamente quella piccola parte piccola dipende però una parte è una dipendenza e non devo andare a toccare la business logic un altro caso mi è capitato anche di recente il problema di un cliente che dice guarda noi abbiamo dei report che quando li generiamo per un utente ci vogliono 10, 15, 20 ore perché sono tantissimi dati ok con quella libreria che usavano loro funzionava così con un'altra libreria ci metteva 20 secondi una bella differenza però se noi quella libreria l'abbiamo talmente accoppiata con il nostro dominio riuscire a fare questo switch non è così banale è costoso ed è pericoloso perché report legali o legati dei pagamenti non è una cosa così banale da toccare o non mi sento tranquillo di farlo se invece abbiamo usato l'architettura esagonale quello che è successo in verità è che abbiamo dovuto sistemare un'interfaccia abbiamo dovuto switchare la dipendenza la parte di dominio non è stata toccata la generazione del report è rimasta uguale tutto il report non abbiamo dovuto toccarlo solamente l'implementazione a parte di infrastruttura è stata toccata dicendo piuttosto che questo servizio usa questo sì è vero c'è una chiamata diversa ma noi ci abbiamo magari messo un servizio davanti e quindi ci pensa lui gli iniettiamo i servizi che vogliamo vogliamo i servizi di pdf1 o i servizi di pdf2 ad esempio perché la dependence injection ci aiuta poi a fare questi giochini con alias o altro con symphony puoi prendere decisioni implementative più tardi qui arriviamo ad un altro punto importante quando partiamo con un'applicazione spesso la prima cosa che sento è va bene come database usiamo mysql e poi come framework usiamo symphony diciamo che ok però non vorrei prendere queste decisioni subito queste sono decisioni che voglio prendere più avanti voglio prendere più tardi possibile posponiamole più possibile concentriamoci prima sulla parte di dominio cosa dobbiamo risolvere quali sono veramente le nostre esigenze cerchiamo di mettere in piedi delle interfacce cerchiamo di capire quali sono i servizi migliori che lo possono fare è mysql è MariaDB ragioniamoci quando capiamo esattamente cosa abbiamo bisogno posponiamo queste cose anche perché all'inizio è difficile capire quale servizio usare e nella maggior parte dei casi non ci azzecca spesso capita in corso d'opera ah cavolo se avessimo usato questo servizio anziché questo avremmo risparmiato in questo momento siamo più veloci se abbiamo dobbiamo essere tranquilli nel dire anche va bene abbiamo sbagliato però usando questa architettura siamo abbastanza safe non dico safe però tranquilli nel farlo switch cambiamo nell'infrastruttura l'adapter e usiamo un altro adapter piuttosto che elastic usiamo l'adapter di Mongo che ci facciamo questo secondo me è un grosso vantaggio di posporre tante volte le decisioni decidiamo quando veramente non possiamo farne a meno è vero a un certo punto devi scrivere del codice per fare delle query però intanto tutta la parte dietro l'hai fatta come creare un utente magari c'è già perché non hai bisogno di sapere se usi MySQL o Mongo un utente non dovrebbe sapere queste parti il modello non dovrebbe saperlo e poi dopo come viene salvato come viene reperito che cambia quella è una cosa che possiamo far dopo puoi aggiornare Windows e Framework senza toccare i codici di dominio questa è un'altra parte che spesso mi capitano progetti dove si affermi a PHP 5.3 c'è bisogno di aggiornare a PHP 7.3 7.4 con una grossa difficoltà codice da 10.000 20.000 file metterci le mani metterci tool come rector non girano sempre perché a volte ci sono errori è una code base veramente difficile da fare un upgrade cosa dobbiamo fare e lì c'è veramente da spendere tanto tempo e soldi quando in verità se usassimo questa architettura siamo più liberi di farlo se dobbiamo aggiornare qualcosa è diciamo circoscritto da qualche parte non è che è ovunque non è che abbiamo accoppiato il nostro framework con tutto il nostro framework è in una parte ci aggiorniamo quello e ci aspettiamo che funzioni se non funzioni se non funziona sappiamo che è in quella parte lì tutta la nostra parte di business logic è a posto è ancora funzionante è solamente questione dopo di come stiamo implementando nel framework ed è circoscritta un grosso vantaggio questo sapere almeno dove andare a agire se dovesse andare a agire in tutta la code base fidatevi che è molto più lungo è molto più dispendioso è molto molto più faticoso in questo momento stiamo anche facendo questo tipo di lavoro e non è banale assolutamente puoi creare applicazioni mantenibili finalmente arriviamo alla parte che possiamo avere un'applicazione mantenibile vuol dire che ci costa di meno ci fa faticare di meno ci rende più tranquilli ci rende anche più motivati perché aggiornare una libreria aggiornare l'ultimo PHP ci fa sentire anche più liberi di fare esperimenti ci lascia liberi di provare nuove cose in maniera safe cioè il nostro dominio è protetto noi possiamo fare in quella parte perché è circoscritta e siamo più tranquilli ecco un esempio di come possiamo avere un progetto ad esempio qui abbiamo dentro SRC attenzione abbiamo SRC legacy e abbiamo creato un SRC dopo ne parliamo anche del legacy con diversi bounded context payment user dentro user abbiamo distinzione tra application domain ed infrastructure dentro infrastructure abbiamo il nostro controller ad esempio user controller un comando e il repository che questo repository MySQL user repository implementerà l'interfaccia che è definita nel dominio user repository e dentro application in questo caso abbiamo messo un servizio create user service e i DTO i data transfer object che sono secondo me classi molto molto utili quando abbiamo trasferito i dati da request o da response e viceversa l'esempio di un controller in questo caso una save action noi iniettiamo la request e il nostro servizio create user service che fa parte dell'application il nostro creiamo istanziamo il DTO tramite questo metodo statico create che accetta i dati come un array da request e chiamiamo il nostro servizio create user service che è il nostro parte quindi l'infrastruttura chiama la parte di application nella parte di application iniettiamo tramite la dependence injection user repository in questo caso un'interfaccia non è direttamente nella nostra implementazione e dentro la create user noi abbiamo l'oggetto il DTO create user request noi creiamo il modello del nostro dominio user tramite il nostro DTO gli passiamo name e password poi dopo salviamo usando comunque l'interfaccia non abbiamo ancora visto qui non state vedendo l'implementazione reale quindi in questo caso potrebbe essere Mongo potrebbe essere MySQL potrebbe essere MariaDB qualsiasi cosa e torniamo un oggetto response logicamente dobbiamo anche sapere quando usare questo tipo di architettura perché è importante è importante anche sapere quando non ammetto che il quando non è quando secondo me non c'è così tanta tranquillità nel team di farlo e lo vediamo immediatamente quindi quando usarla quando avete un progetto nuovo secondo me se siete tranquilli se avete già fatto esperienza usatela tranquillamente perché secondo me vi aiuta quando devi sviluppare un nuovo contesto in un'applicazione legacy e qui secondo me è molto valido perché riusciamo come avete visto prima a staccarci a creare una nuova parte e possiamo usare la nostra architettura esagonale sempre il sempre è sempre diciamo non valido però io ammetto che da quando uso cerco di usare l'architettura esagonale con concetti di domain driven design eccetera mi semplifica molto il codice e mi aiuta molto a renderlo più leggibile più testabile e la mia vita diventa anche più semplice come dev mano a mano sicuramente c'è da fare della pratica qual è l'approccio ai progetti legacy che non usano l'architettura esagonale visto che io spesso lavoro in ambienti legacy come funziona spesso quando dobbiamo creare parti nuove io cerco di imparare col team allinearci su cos'è l'architettura esagonale provare a proporla provare a far capire i vantaggi e gli svantaggi che sono anche gli svantaggi che vuol dire pensare prima avere un approccio diverso pensare prima a differenziare infrastructure domain application però cerco di esprimere i vari vantaggi e fare un esperimento piccolo per vedere se funziona quindi anche qui piccoli esperimenti cerchiamo di vedere se funziona con il nostro dominio se il team si trova in linea e dopodiché quella parte è separata dalla parte legacy in una directory magari separata a sé perché è un altro bando di context mi piace molto seguire questa regola d'oro la regola dei boy scout che lascia il tuo codice migliore rispetto a come l'hai trovato cioè se passiamo da qualche parte ci accorgiamo che non ci potrebbe essere un'interfaccia possiamo usare un'interfaccia piuttosto che l'implementazione possiamo usare la dependence injection quando ci capitano questi esempi è debito tecnico a me piace lasciare il codice migliore rispetto a come l'ho trovato da dove possiamo partire? da dove possiamo partire direi che usare più interfacce possibili perché ci aiuta veramente tanto a volte dico ma sto anticipando un problema che non ho sì è vero però se sto usando un'implementazione direttamente è meglio usare un'interfaccia e un layer in mezzo e questo diciamo che mi aiuta in questi ragionamenti usare la dependence injection veramente la dependence injection ci aiuta veramente tanto a disaccoppiare il codice tanto è vero che io cerco di non usare più le new ovunque cerco di usare più dependence injection possibile outwire o no questo è indifferente cerco anche a volte di non usare l'outwire perché dopo hai dei altri effetti però usate la dependence injection che vi aiuta veramente tanto anche in ambito di test perché non usando le new ma la dependence injection possiamo moccare possiamo creare dei stub e altro fare pratica con dei kata cosa sono i kata i kata sono dei esercizi diciamo personali che uno può fare per provare nuove cose ad esempio io all'epoca feci 20 volte diverse il gioco del tris in 20 maniere diverse prima in tdd poi con acli poi con symphony zend applicando architettura esagonale provando graficamente a fare qualcosa però ho fatto pratica cercando di provare librerie nuove architetture nuove framework qualsiasi cosa volete per fare pratica perché dobbiamo fare pratica prima di farlo in progetti reali perché dobbiamo capire di cosa parliamo realmente quindi prima di applicarlo fate dei test provate voi stessi a capire cosa non vi torna e cosa e cosa vi piace cosa non vi piace e capite se è per voi o no ulteriori miglioramenti per il vostro codice con l'architettura esagonale possiamo sempre affiancare ddd domain driven design che è un discorso molto grande ma che aiuta veramente tanto c'è il red blue il red book il blue book che vi consiglio veramente caldamente di leggere poi il pattern cqrs ed event sourcing che vanno spesso in coppiata che ammetto che io sposo veramente tanto perché per me è un pattern cqrs più event sourcing che funziona veramente bene ma bisogna saperlo applicare perché anche qui se applichiamo male questo pattern rischiamo di avere più contro che pro quindi attenzione e non è obbligatorio applicarlo a tutto l'applicativo tdd e bdd sono due pratiche che consiglio sempre tdd è una cosa test driven development se non lo conoscete provate a approfondirlo provate anche a chiedere anche a me senza problemi in privato qualcosa perché per me è uno strumento che aiuta a scrivere codice migliore a scrivere codice testabile e sicuramente all'inizio ci dovete prendere un po' la mano ma una volta che partite dopo capite tutti i vantaggi che avete concludo dicendo che assumiamo in flowing se volete provare un'esperienza se volete provare a entrare in flowing noi siamo sempre contenti di ascoltare nuovi dev benvenga se ci fosse qualcuno che vuole candidarsi e grazie se volete seguirmi su twitter questo è il mio nickname grazie 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 grazie